A sintonie Audio Video Expo 2023 al Paracongressi di Rimini il 15, 16 e 17 settembre c'era anche l'Home Cinema grazie alle due installazioni curate da Audio Quality, il punto vendita di riferimento presente a San Lazzaro in provincia di Bologna a Milano 2 e presto anche in Abruzzo a Pescara. La prima sala è stata allestita in collaborazione con Laica, c'era quindi il nuovissimo Trilaser Laica Cine 1 di cui trovate già le prime misure su AV Magazine. Il Laser TV era all'interno di un bellissimo mobile Spectral molto robusto, impreziosito con finiture di pregio e con spazio anche per lo schermo ALR motorizzato, tensionato e con salita dal basso. L'audio in configurazione 4.1 prevedeva un integrato Marans Cinema 50, quattro nuovi diffusori da pavimento Bowers Wilkins 603 S3 e un sub Velodyne Deep Blue da 12 pollici. Nella Sara c'era anche un eccellente salotto San Marco della linea Jazz Home Cinema, complemento perfetto per questo interessante sistema. Affascinato dal prodotto e incuriosito da come è nata l'idea di questa collaborazione, ho chiesto direttamente a Eliana Galimberti, sale officer di San Marco. Audio Quality siamo arrivati sostanzialmente grazie alla collaborazione con Enrico di Laica e Riccardo di Spectral, nel senso che Riccardo che secondo me è bravissimo nell'organizzare questi link, ha pensato di creare un living completo. Lui ci conosce perché abbiamo un cliente in comune francese con cui lavoriamo sia Spectral che noi già da un po' di tempo, un buon cliente e da questo giro di conoscenze è nata l'idea di avere un qualcosa come quello che si vede nella sala, cioè un pool di aziende che si mettono insieme per proporre un concept piuttosto completo diciamo, mobile, sedute e la parte tecnica del progetto. Grazie a tutti.